Sarà una stangata sì. La doppia pensione non l'abbiamo proprio vista per conservare i soldi per la casa. Sono le cose all'italiano, ma dice come a Edoardo, va a passare la nottata. Sono arrabbiati. Arrabbiati a dire poco, sono incazzati se si può dire. Lavoratori, pensionati, casalinghi attendono pazientemente il proprio turno nei CAF della CGL di Bari, anche ore per conoscere il risponso. Comunque è un salasso tra tasi da pagare in un'unica soluzione e le prime due rate della Tari sui rifiuti entro il 16 dicembre. All'uscita dagli uffici si sorride davanti alle telecamere per non piangere. Posso chiedere quanto dovrò pagare di tasi? 512 euro. Sotto Natale è un bel regalo? Sono raggiunta anche disoccupata attualmente. I soldi come li avremo dalla tredicesima? Non li dobbiamo neanche vedere perché dobbiamo pagare le tassi. La tassa sull'abitazione principale ha messo l'aliquota massima del 3,3 per mille. Un immobile di quattro vani paga più di 500 euro. Pagati in unica soluzione a dicembre diventano molto pesanti. Da Iapigio ci spostiamo nel rione Libertà. La musica non cambia. C'è chi protesta contro una tassa, la Tasi, da pagare anche per la manutenzione delle strade, rotte e sporche. Che pulizia c'è? Sta attendo a questi cani perché vanno con le palettine, però non usano pulire a terra. Lo sappiamo. Che cosa? Dalla stangata. Sta arrabbiato. Da quanta gente viene in media? In media? Un'ottantina di persone al giorno. Arrabbiate? Molto arrabbiate, molto.